Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del Project Ozone 2 Signore e signori Episodio 9 Ragazzi Allora adesso Dato che abbiamo Abbiamo fatto l'episodio scorso Abbiamo fatto tanti cocoven Abbiamo fatto la tinker Abbiamo fatto Abbiamo messo il yellorium block Abbiamo fatto l'orticello con Con i nostri semetti Intanto Intanto così basta che mettiamo Tre di questi Nella crafting ci danno tre di questi Che smentandoli Aiuto Voglio morire So io perché raga So io perché Le torce Ah Perché Le cacchio si è spawnato F7 Ragazzi Ma da dove sono spawnati Bah Boh Chino che lo sa Da lì può Da sopra Da sopra i cosi Può essere Da lì Secondo me è da lì Ebbene fa niente Off camera ho fatto Del Del legnozzo Così possiamo Possiamo farci la quest Scusate Allora dobbiamo farci Dobbiamo farci una quest Che sarà Andiamo in Abbiamo sbloccato beta gamma Ma comunque E andiamo in gamma E facciamo La quest Delle spike Quindi Wooden Spike Vai Ci servono Tre spade Di in legno Sapete Che non si fanno Non Non fatene Per combattere Raga Un Due Tre Quattro Cinque Sei Quindi Due Ancora Tre Di queste E tre Di queste Una Due E tre Vai Poi ci serve Tre legnozzi Un Due Tre Fatto E Boom Abbiamo le spike Che però Non le voglio fare Adesso Perché Queste spike Ve lo faccio vedere Graficamente Mi tolgo Mi tolgo L'armatura Teoricamente Dite Ok Queste spike Sono pericolose Ok Guardate Guardate Mi uccido Ok Ma a caso Così muori No Queste spike Ci lasciano A mezzo cuore Capito E Soprattutto Ragazzi Ho fatto Del cibo Appunto Con il Bon meal Adesso Mangiamo Ci rimettiamo L'armatura Così Non la sprechiamo E Ragazzi Ho trovato Ho trovato Ho trovato Una borsetta Quattro sediane Che volevo fare Long Fall Boots Che si fanno Due diamanti Ma due diamanti Penso che non ce li abbiamo Appunto Come l'ho detto Caso Lei è deluso R Queste si possono Smeltare Qualche parte No Vabbè Non si possono Farsi Una persona Molto triste Claimiamola Quest Tut tut Tutututututu Allora Le aero spikes Che si fanno Gli Iron spy Apre una borsetta Che ci da un Aaron Pack Se non ci importa Si servono Gli upright Così Si fanno Con tre Di questi della stone quindi madonna upright spikes si fanno tra di questi una stone la stone avremmo avercela si perfetto stone però ci serve della cobblestone scusate fatemi mettere qui un po' di roba un po' di M ok quindi andiamo a prenderci velocemente della cobblestone perchè dobbiamo farci dobbiamo farci le cose qua gli spiriti picchi dobbiamo farci delle stone facciamoci dei cosi scusate andare anche a mangiare 1 2 e 3 poi ci serve una stone 3 spike tra di questi vai per fare poi le iron spiche le spike si fanno con un bloccozzo di ferro che dovremmo avere si poi 3 spadozze che non sono spadozze ma sono spadine in questo pacchetto vai facciamo altre ce le abbiamo guarda tra le quest facciamo vai ok poi tac fatto abbiamo fatto anche la quest e adesso facciamo l'altra i soliti anti-wilder così vabbè ragazzi io taglio che devo andare a mangiare abbiamo l'ossidiana però dopo mi sa che dopo farmerò un po' di farmerò un po' di diamanti questi chance cube li apriremo più avanti perchè non voglio perdere le robe poi adesso abbiamo anche occupato la roba lì non piazzare vabbè raga io taglio perchè devo andare a mangiare e ci vedremo ci sentiremo tra poco ok ragazzi riaccomi qua ragazzi completiamo la quest così facciamo ci danno chance cube e ci da questo così ci danno invisible bedrock che io andrei a buttarvene sinceramente allora mi prendo un bel po' di mele perchè ci serviranno ci serve sempre ci serviranno perchè poi anzi tra un po' non ci serviranno neanche più perchè ci servirà ok allora dammi 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 anzi mettiamo via nel per quarta e poi mi dai mi dai mi dai anzi via via bedrock via questo questo basta io non trovo più la mia wanda appunto ce l'ho qua allora andiamo a prenderci ora facciamo il trashcan dei liquidi che si fa con un secchiellozzo lo facciamo subitissimo andiamo a farci un secchiello nuovo nuovo allora andiamo a farci andiamo a prenderci quello così facciamo quello dei liquidi dammici guardami velocemente questo allora facciamo il trashcan più questo facciamo quello per i fluidi e così abbiamo fatto questo ma io voglio rifarmi il secchio normale così un due tre facciamo così il secchio normale e facciamo la quest va bene automaticamera ragazzi 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 svolta incredibile svolta incredibile e facciamo la prossima quest che si fa con due ori due ori ne abbiamo tre porca la zozzona ne abbiamo tre niente a fare niente ori per caso va bene sono una persona triste allora vabbè siccome non c'ho nulla da fare direi prendiamoci andiamoci a prendere della cobblestone 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 e direi di farci anche dei pipe ma prendi uno stack che il kit se straschiappa va vai così intanto li esauriamo almeno fai questa cobblestone vai allora qui c'è il trashcan e fluidi e direi ragazzi andiamo a smeltare quickly quickly ok dentro a furnace dentro la dentro questo questo qui lo buttiamo questo pure allora magari magari intanto che aspetta io direi facciamo così la messa che lozzo e ci faccio signori guardate che idea che c'ha a caso idea malata siccome io ci vado a mettere guardate guardate che intelligenza che c'ha a caso senza che mi vada a rovinare questo così io così ci metto l'acqua facciamo così così non c'entra l'acqua spacchiamo questa dammelo ok no allora dovrei fare altro uno e facciamo così ok così io vado a prendere la lava facciamo cinque sei voglio insegnare il trucco che non vi ho insegnato otto nove quanto c'ho raga ah proprio finita è diverso ah caso sei proprio un birbone vai così fai la lava vediamo quant'è dovrebbe essere cinquecento appunto già il più veloce come avete visto abbiamo già secchio quindi facciamo così abbiamo dieci andiamo a fare portale lo portalo del neda allora uno due tre quattro cinque sei vai uno due e questo che ho cannato parca zozza ho cannato raga vabbè 70 dovrebbe essere settecento ancora una vai dovrebbe bastare dovrebbe bastando raga vai obsidian obsidian e adesso basta basta riempirlo basta riempirlo di lava così dammi un secchiellozzo della lava così facciamo così io taglio perché devo fare devo mettere della cobblestone poi la tolgo allora facciamo così così guardate io devo girare devo raggirare qui c'è la lava no siete d'accordo così in modo che la lava questo poi ci raggiungeremo al momento prendiamoci la lava mettiamoci la lava lì chiudiamo così in modo che il fuoco vada nel perché fuoco come funziona la meccanica del fuoco il fuoco praticamente aiuto il fuoco come funziona dopo un po' di tempo lui va a prendere il primo spazio libero per esempio se qui ho libero del legno il fuoco andrà qua se non è pieno andrà per forza qua basta aspettare e poi avremo il portale del nether capito adesso io taglio perché ci sarà tanto da aspettare praticamente è un bug che mi ha insegnato l'uk4316 vabbè è un bug che mi ha insegnato l'uk4316 quindi basta fare questa roba taglio ragazzi come avete visto il portale del nether ha funzionato perché ha bruciato tutta la legna sono stato qui 20 minuti a farlo e praticamente praticamente la lava ha bruciato madonna adesso stai bruciando me non devi bruciare me capito allora dobbiamo andare nel nether per prenderci la netherrack perché così possiamo farci il legno il legno se ciao l'oro allora andiamoci praticamente così non mi importava della lava tanto era solo per giusto per allora siccome l'acqua non funziona nel nether devo fare così guarda blocca noi chiudi 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 ok allora io andrò a prendermi il martello no il martello dell'immersive questo è via e così via allora andiamo a svuotarci tipo facendoci una chest avremmo che mettendo tutto dentro qua fa niente andiamo a farci del martello un martello poi tanto sistema off camera tranquilli un due tre quattro e ci facciamo una crafting station così da lasciare qua vicino a tinker perché non posso andare nel nether allora così uno uno due così abbiamo più probabilità e così abbiamo bugato anche la abbiamo bugato anche la project ozon ma qui è piazzato una stone tranquilli vabbè andiamo nel nether e ci prendiamo giusto necessario sperando di non morire ehehe vorrei via tu che stai seguendo questo video metti un like adesso se no ti vengo a prendere a casa capito ti vengo a prendere a casa a cacci in culo adesso mentre carichiamo intanto spero che gamer per voi sia online invece no come al solito stupido non sei altro dovresti generarmi il mondo infatti me l'ha quasi generato io taglierò no ci siamo ok siamo nel nether ragazzi allora mettiamoci il waypoint new portale save così non possiamo farci il teleport vedete e per esempio potremmo potremmo prenderci del call vedete però molto più pericoloso ragazzi ovviamente non possiamo minare e adesso inizia inizia come la casocraft vecchia dobbiamo cercare un modo anche molto semplice per esempio il silver possiamo minarlo per adesso è un passaggio più lento qui c'è del magnesio allora perché cosa ho preso questo spiripicchio qua tasto il miner le mani no no che spavento vai e questo non posso scavare vabbè vedete abbiamo uno stack di di nedrack senza dover senza dover spendere un botto di redstone oddio che orgia via subito da qua via subito aio 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 no 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 sono morto 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 allora come faccio raga questi mi chiedono ok allora ragioniamo così così guardate che bello ucciderli e così e così intanto guadagniamo anche roba oltre che oro allora la glowstone io me la fotterei perché si e off camera dovrei andare anche a scavare questa roba non è perdonabile con le scuse adesso ci abbiamo un boost dei materiali non dovremmo mai più siftare ad eccezione del gold quindi ragazzi spero che questo video spero che questo video sia piaciuto spero che io farei una hub tipo così chiuderei portale così e questo qui è più un episodio di esplorazione che dire esplorazione cioè vedete che caso vi trasforma il vanilla in moddato così semplicemente cioè riesce a rendere riesce a rendere il gameplay molto più avvincente molto più meno vanilloso capito beh adesso è troppo vanilloso sto episodio cioè lo ammetto sembra proprio quel minecraft che fa schifo cioè capito perché l'odio anch'io il vanilla cosa credete perché il moddato cioè questo qua questo qua è moddato è moddato ma è vanilla cioè mi dà una brezza che manco vi immagini mi rende tipo nervoso tipo oh fai 5 minuti il gameplay basta chiudi il gioco mi sono già rotto mentre moddato ci starai anche giorni e giorni allora così vedi perché ti dà questi vantaggi no il moddato allora andrea andiamo a togliere tutto questo facciamo vai così poi rimuoviamo quello e dobbiamo fare così così guardate andiamo a farci velocemente questo due porti ciuole vedete sono staccabili e facciamo peccato che vediamo se c'è qualche door vediamo se c'è qualche door nuova se no facciamo magari in un prossimo episodio si ci sarebbe ma non c'è la no non c'è la ma esistore però c'è le rebus ah no che schifo la spero come lo faccio si sarà qualche sarà qualche mod sarà qualche sarà qualche come si chiama sarà nella dimensione del rebus vabbè vabbè mi verrà bersampling non ce ne fottano ragazzi va bene ragazzi io dovrei siftare tutto questo cold per poter fare la fornace lì e poi dovrei anche andare a riposare perchè sono stanco va buono noi l'episodio ce lo siamo fatto abbiamo fatto un ottimo lavoro perchè comunque registrare tre episodi sono tanti tre episodi in due giorni io sarei stanco non ci avrei più voglia di giocare a minecraft però devo perchè devo siftare tutta sta roba e va bene va bene ragazzi io sifto questa roba ci vedremo nel prossimo episodio con oh ah no scusatemi allora vedete che si ottiene anche il ruby quindi io per legge per la mia legge madonna devo metterci sulle torce prevedo che finirà no dai non si è messi male devo farmi una chest vai e qui ci metterò andremo a metterci tutte le cose fatte da gravel spostiamo questo chest di qua e questo ce lo mettiamo qua quindi gravel ci droppa questo questo per ora vabbè poi quando ci droppa per esempio quando ci droppa per esempio il cobalto andremo ad aggiungercelo ragazzi io sono casatemi spero che questo video vi sia piaciuto mettete un bel like un bel commento e da cosa mi è tutto dopo che ci siamo sentiti ciao a tutti dopo che siamo andati nel nether abbiamo fatto un po' di robe però adesso devo andare a mettere velocemente le torce due di queste fammi due torce quattro torce anzi otto scusate sono abituato nella casa comunque andiamo a killare i mob così ok ok le facciamo così va bene ah giusto devo andare e qui ci mettiamo le torce anche qua con questo dai grazie ragazzi a casa mia è tutto ciao a tutti